Benvenuti sul canale LentiCar, oggi vediamo questo furgone, Renault Master T35 2003 DCI, questa è la versione 130 PMTM Euro 6B. Il veicolo è stato immatricolato nel 2017 e ha percorso solo 117.000 km, diesel da 130 CV, 2003 ovviamente. Partiamo subito guardando gli interni, per cominciare la condizione di sedile che ci dà sempre un'idea di come è stato trattato il veicolo, direi bene come sono messi bene anche il resto degli interni. Discretamente accessoriato abbiamo visto il volante multifunzione, l'aria condizionata che ormai non può più mancare, l'autoradio con anche presa USB, oltre ai cristalli elettrici e agli specchietti retrovisore. Ah dimenticavo, a 6 marce. Numerosi sono anche gli accessori per la sicurezza di guida, come il controllo della trazione o anche i sensori di parcheggio molto utili con mezzi di queste dimensioni. Uno sguardo al chilometraggio, eccoli là, 117.000 km. Diamo un'occhiata anche al vano di carico, mentre ve li controllate io vi do le misure. Portata 1491 kg, lunghezza totale 5,548 m, il vano di carico è lungo 3,02 m, largo 1,77 m e l'altezza interna è 1,93 m. C'è anche il portellone laterale ovviamente. Bene, per tutte le informazioni di questo veicolo potete trovarlo sul nostro sito www.lenticar.it oppure potete venirlo a visionare direttamente in sede a Castellato di Bronduzzo in provincia di Pavia. Io vi aspetto, ciao!